Questo è il messaggio a cui tengo molto, perché ho la faccia incazzata? Ho la faccia incazzata perché respiro sfiducia, respiro area di aspettativa, respiro quelle facce da senso critico come quando uno vede una partita di pallone e non ce la fa tutti sono professori, perché? Perché la gente, legge giornali e vede il titolo, si rimbalza, si crea dei grandi film che sono tutte cazzate. Oggi non parlo di Alessandro, parlo di Napoleone. Napoleone a Waterloo, una pianura in Belgio, fece il suo capolavoro, tutti lo davano per fatto, per cotto, per la supremazia degli avversari, aveva 5 grandissime nazioni contro, delle forze in campo, però strategia, chiarezza delle idee, determinazione, forza, Napoleone fece il suo capolavoro a Waterloo. Allora, le facce scettiche, le facce di… non servono un cazzo, questa è una delle aziende più belle che esiste al mondo e allora, forte di questa convinzione, noi dobbiamo dimostrare che questo è un fatto, piangersi addosso non serve assolutamente a niente e come nel momento duro, dagli spalti la gente ti dice eh la squadra non gira, non corrona, bene, correte di più, stringete i denti, prova di carattere e allora dagli spalti vi applaudiranno, perché voi andrete e segnerete, come fece Napoletone a guardate. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!